Una grande effervescenza di progetti, alcuni dei quali sono in uno stato di realizzazione molto avanzato e l'idea è che la Rimini che tutti noi conosciamo, cioè grande polo di attrazione del turismo balneare e del divertimento è anche sempre più una città che oltre a puntare sul divertimento punta sulla qualità ambientale, la qualità delle acque e la cultura. Non è solo un omaggio a Fellini ma è anche, diciamo così, un omaggio alla lirica e un uso anche della figura di Fellini per parlare di cinema, parlare di cultura in generale. Quindi grande collaborazione col governo e complimenti a una città effervescente.